Salve a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo video di The Oral Red come vedete siamo ritornati con i video più che altro perché questa assenza di un mesetto noi ragazzi ho dovuto fare il cambio della linea cioè cambio tra virgolette semplicemente sono sempre lo stesso gestore ma devo mettere la fibra come vedete è anche cambiata la stanza questa sarà la mia stanza proprio ufficiale infatti anche in fase di costruzione altre cose mancano ancora oltre questo aggiungo che finalmente ho la fibra la mille, la mille mega cioè mille megabit per essere precisi e fortunatamente posso fare le live ogni volta che voglio infatti come avete visto ho fatto un sacco di live almeno per chi le ha viste e si ritorna a fare video in cui parlerò di una cosa molto importante ovvero il progetto che avevo parlato verso maggio, non ricordo, verso aprile precisamente aprile in cui parlavo del mio progetto per il mio piccolo show è il show cosa voglio dire? semplicemente voglio dire che inizieranno questi video fortunatamente non tra una settimana o due settimane il tempo che ci lavoro a parte fare il mio piccolo show che riguarda una serie che porterò io comunque riguarda una parte diciamo ironia drammatico e comica che poi comunque si bella con calma oltre questo vorrei aggiungere a parte il mio piccolo show dei piccoli si possono chiamare così ma li chiamerò così comunque show in cui farò dei video o dei pezzetti come avevo parlato tanto tempo fa e del fatto che avrei portato comunque dei vlog in cui magari si andava al giapponese magari cose del genere diciamo che simili a questa cosa in cui voglio portare ma in un altro stile che poi pian piano vedrete non so nemmeno se sono proprio simili però andrei per farvi capire che comunque oltre ai gameplay finalmente porterò a breve delle cover per quanto riguarda la chitattura la musica e poi questo show che dobbiamo lavorarci perché anche non sarò da solo probabilmente o almeno molti saranno a due persone non dico parlato ma la persona che comunque dietro mi aiuterà a fare le riprese magari qualche volta uscirà anche in questi video chi lo sa ci sono altre cose come avete visto anche nelle live ci siamo trovati a farlo a tre e altre cose del genere oltre diciamo questa parte diciamo che la parte più importante era questa volevo solo aggiornarvi che finalmente ritorno cioè no ritorno scusatevi ma semplicemente parto con questi progetti e come avete visto riprendo a fare video perché comunque sono stato senza linea un mese ma fortunatamente adesso ho la linea o la mia stupenda fibra perché comunque ad essere sincero sono soddisfatto e del resto si parte per diciamo questo show e riprendere il resto del video queste erano diciamo le cose che ti volevo parlare magari se qualche volta non so che nella sopertina è previsto che martedì e giovedì ci sarebbero le live ma comunque gli altri giorni magari se porto un video ho più tempo libero ne approfitto di fare live aggiuntivo perché comunque diciamo che tutte queste 4-5 live che ho fatte nell'ultimo periodo erano dei test delle prove per sistemare il programma infatti spero che ci sia riuscito perché comunque ho smanettato per un po' per vedere se riuscivo a sistemare dovrebbe essere tutto a posto comunque il mio processore è un i5 3.330 non è di ultima generazione purtroppo la scheda è di fare il suo lavoro anche di fare il suo lavoro ma comunque il vecchiotto non riesce a preggere certe cose o più amanti magari se le cose vanno bene continuano ad andare avanti tante cose penso che magari cambierò anche il computer poi non si veda poi cioè poi si vedrà insomma bene ragazzi questo era tutto ciò che volevo dire nulla di particolare un piccolissimo video per spiegarvi le semplici cose perché un mese sono scomparso quando partirà quel progetto di cui vi ho parlato spesso e diciamo queste erano le uniche cose da dire bene ragazzi ci vediamo un prossimo video ciao a tutti